Ciao amici Mr. Gadget, voglio presentarvi un prodotto molto interessante, uno smartwatch in grado di fare qualunque cosa vi serva per meno di 60 euro. Parliamo di un prodotto con il nome impossibile, si chiama Xiaomi Huami Amazfit Beep Lite. Una volta che avrete riconosciuto il suo nome, ormai sarà uscito di produzione. Allora, meno di 60 euro dicevamo per un prodotto che ovviamente richiama molto da vicino l'aspetto di Apple Watch. Si utilizza con una combinazione tra il movimento touch e invece lo swipe che fate sul display e qui potete vedere essenzialmente quelle che sono le applicazioni che sono disponibili. Intanto avete un orologio, c'è un'applicazione che non è quella nativa con cui potete cambiare i quadranti. Un movimento per darvi lo status delle vostre attività, quanti passi avete fatto, come va il battito cardiaco, quali sono le distanze percorse nel corso di una giornata. Con il pulsante c'è sempre il ritorno indietro e poi il movimento attraverso le varie attività. Potete vedere anche qui quello che potete misurare, toccando la corsa in esterna, il tapirulano oppure la bicicletta e ancora la camminata. E poi qui avete invece la storia di tutto quello che avete fatto per quanto riguarda le vostre attività. Ci sono indicazioni meteo che arrivano ovviamente con la sincronizzazione con il vostro smartphone, l'orologio con le sveglie che potete piazzare, un timer, una bussola che può essere molto utile. Tenete conto che questo è un oggetto che ha anche il GPS al suo interno con l'assisted GPS. Il dettaglio, come detto, importante è quello del sensore per il battito cardiaco. Ma quello che credo sia ancora più importante è che questo oggetto riesce a funzionare con un'unica carica addirittura per 30 giorni. Tutte le informazioni che trovate qui, comprese quelle per il sonno che qui non vengono mostrate e vengono riportate invece sulla applicazione, vengono viste dall'applicazione Mi Fit, la stessa con cui si sincronizza la Mi Band di Xiaomi. Allora, vi segnalo la proposta di Gearbest che con meno di 60 euro vi offre questo oggetto, che secondo me per il rapporto qualità-prezzo è molto completo, molto interessante, soprattutto per l'autonomia. Se qualcuno di voi lo acquista, mi faccia sapere come si trova.